C'è una sola persona che bisogna tenere a fare il presidente del Tosino, si chiama Mario Draghi. Ora sono tutti diventati draghiani di ferro. Chiediamo agli italiani di sostenerci contro la peggiore destra di sempre. Adesso si sono inventati il fattore M. Non mettete lì. Il centrodestra può governare il paese solo se avrà una forte proposta politica moderata. Le proposte del Movimento 5 Stelle sono chiare. È iniziata la prima interlocuzione col PD. Che ne dicano appunto i bau bau della sinistra. Chi diede il nome di Draghi? Fusilio Berlusconi è Forza Italia. La maggioranza degli italiani volevano che questo governo andasse avanti. Movimento 5 Stelle e le accozzaglie elettorali non interessano. Adesso pensiamo a prendere i voti sulle cose che sono necessarie per il paese. Salute, lavoro, emergenza ambientale, diritti, questioni sociali. C'è un fronte che si va componendo che è repubblicano. Hanno capito come sempre di aver sfasciato tutto. Questa è la realtà dei fatti. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che ti restate. Vi invito per un momento a chiudere gli occhi insieme a me e a pensare al prossimo appuntamento elettorale. Ebbene, tutti i partiti in tempi non sospetti, quando ancora non si sapeva della data del 25 di settembre, raccontavano le prossime elezioni come una importante occasione di riscatto. Riscatto per la sovranità popolare che finalmente avrebbe scelto un governo dopo tanti esecutivi, per quanto legittimi, ma definiti dentro il palazzo. Ma riscatto anche per il protagonismo dei partiti, soprattutto dopo la stagione dell'unità nazionale con Mario Draghi nel ruolo non solo di premier, ma di pilota della Safeticar, della politica italiana. Ebbene, ora che la campagna elettorale è iniziata, più che ha appelli per il riscatto, assistiamo ad una girandola di ricatti. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ieri ha avvertito a muso duro i suoi alleati. Se cambiano le regole per la designazione del premier, la coalizione di centrodestra può andarci a fare benedire. Sull'altro fronte, Carlo Calenda archivia la vocazione solitaria della sua esperienza politica, apre all'alleanza con il Partito Democratico, ma avverte il suo segretario Enrico Letta, si guardi bene dal proporsi come candidato premier. E il Partito Democratico, oggi riunito in direzione per definire il perimetro del campo democratico e progressista, detta la linea, aperti a tutti, ma guai, no a Matteo Renzi. Intanto, la stampa che conta, quella internazionale, guarda alla campagna elettorale italiana e avverte il rischio che con un centrodestra vittorioso e a trazione Giorgia Meloni, in Italia potrebbero ritornare rigurgiti fascisti. A destra parlano di ricatti dei poteri forti internazionali, a sinistra invece ci si mette sulla scia di questi editoriali e si moltiplicano gli appelli. L'ultimo, quello di libertà e giustizia per scongiurare il ritorno di una deriva autoritaria. A noi tutto questo sembra un po' una nemesi storica, soprattutto per una coalizione che per 30 anni con Berlusconi ha evocato il pericolo dei comunisti in Italia. Ma al di là delle battute, forse al nostro paese, se merita e davvero merita un riscatto, crediamo serva più uno sguardo rivolto al futuro più che allo specchietto retrovisore del passato. Noi da qui oggi vogliamo ripartire. Lo facciamo con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio. Francesco Specchia, firma dei Libero, Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it. Vedo collegato con noi Paolo Barelli, capogruppo dei Forzisti alla Camera, e Tommaso Cerno, giornalista e senatore del Partito Democratico. Parto subito da Peter Gomez e gli chiedo, accantonando per un momento il discorso della stampa internazionale, anche perché tra poco arriverà David Broder, l'autore del fondo sul New York Times, che ha più di tutti evocato il rischio fascismo in Italia, che cosa sta succedendo dentro il centrodestra? È estremamente forte, avvantaggiato nei sondaggi, eppure ieri è arrivata quella altolà di Giorgia Meloni. La coalizione può saltare se cambiano le regole? Non so se la coalizione può saltare, ma sta succedendo quello che sta accadendo nell'altro campo. Si parla al momento esclusivamente di poltrone, dato che il problema è fare le liste, capire come diavolo si fanno queste liste nel centrodestra, ma come dall'altra parte è fondamentale. Giorgia Meloni dice, io sono il partito più forte stando ai sondaggi, e quindi devo avere più seggi. Gli altri dicono, no, bisogna applicare un criterio diverso. E all'interno di tutto questo è il momento sconsolante in cui si sta parlando di poltrone. Guardate bene che si sta parlando di poltrone non per dare modo agli elettori di scendere il candidato che preferiscono, perché questo, grazie a quella schifosa legge che si chiama Rosatellum e che ha le impronte digitali di coloro i quali l'hanno approvata quasi tutto il Parlamento, non permette agli elettori di scegliere chi andrà in Parlamento, ma permette esclusivamente ai segretari di partito di farlo. Stanno mettendo in piedi l'ennesimo Parlamento di nominati e lo chiamano democrazia. Ma d'altra parte lo sapevamo da tempo. E forse è anche una responsabilità dei partiti che avrebbero potuto mettere mano a una legge che tutti definivano schifosa, ma poi si sono fatti prendere in contropiede da una crisi di governo. Francesco Specchia, condividi la lettura di Peter Gomez, dice attenzione, gli attriti che si stanno verificando nel campo del centrodestra più che la questione di lana caprina della leadership, della premiership, riguarda in realtà la spartizione dei seggi sicuri, quindi le poltrone. Sì, sono d'accordissimo con quello che dice Peter. Avviene al centrodestra dove appunto la mezzunità cercando di sondaggi preelettorali di avere una sua vuota parte nella partizione o diciamo nella creazione di poltrone per il proprio governo e quindi a seconda dei conti dovrebbe avere... Francesco, io non so se sia solo un problema mio dell'audio in questo studio, ma ho gravi problemi a sentire il tuo audio, per cui io chiedo alla regia di verificare se riusciamo ad avere un audio quantomeno intellegibile. Proviamo ancora un momento, Francesco? Pronto? Ti sentite? Sì, adesso come se fosse una vecchia telefonata intercontinentale, ma almeno la voce è rimanata. Velocissimo, guarda, sono d'accordo su quello che dice Peter. La Meloni sta cercando sulla base di sondaggi preelettorali di conquistare tutte le poltrone possibili e probabilmente ne otterrà la metà, dato che i sondaggi le danno ragione. Sono incavolatissime ovviamente Salvini e Berlusconi, però è l'unica possibilità di poter rispettare una regola già acclarata nel centro-destra. La regola secondo cui chi ha un voto in più vince tutto e diventa Premier e quindi a modo di poi piazzare i propri nella maggioranza dei casi. Però avviene la stessa cosa per i 5 Stelle e avviene la stessa cosa per Calenda, perché se tu ci pensi, i 5 Stelle stanno facendo una sorta di alleanza adesso che si prospetta, magari con De Magistris, magari con il PD, anche se questo non pare possibile, proprio per avere più posti possibili e definirli prima della elezione. E credo che lo stesso problema riguardi il Partito Democratico, ma del resto lo sappiamo. La torta da spartire è più piccola dal momento che questa legislatura ha votato la riduzione dei seggi. Ci ha raggiunto, ed è un vero piacere, Daniela Santanchè, esponente di Fratelli d'Italia. Io devo ripartire da lei, perché le parole di ieri di Giorgia Meloni al TG5 hanno sconvolto un po' la lettura di una giornata nella quale sembrava che il centrodestra marciasse unito e compatto. Ripartiamo dal fine della giornata di ieri, Santanchè, e poi sono subito da lei, Irene Buscemi. La fu maggioranza del governo Draghi sosterrà il DDL-UTB, se secondo lei? Palletiva, sì, senza alcun dubbio. Si torna in aula, dopo la caduta del governo Draghi, c'è il DDL concorrenza da approvare, mentre il governo lavora sul DDL-UTBIS. Il ministro dell'economia Franco è convocato a Palazzo Chigi. Proroga del taglio delle accise fino a settembre, azzeramento dell'IVA su pane e pasta, una manovra da 12-13 miliardi. Credo che nell'irresponsabilità politica che ci state, almeno su questo, spero che ci si metta d'accordo. Mai dato fiducia in bianco. Leggiamo quello che c'è dentro e se servono alle persone, noi ci siamo come ci siamo sempre stati. La sciacura, se andavamo a elezioni, non arriva, nel senso il governo uscente, continua a lavorare. Intanto si scaldano i motori per la campagna elettorale. Nel centro-sinistra si cercano compagni di viaggio. Qual è il nostro programma? Riportare l'italiano più bravo a governare l'Italia. 5 Stelle era un branco di fazzi responsabili. Avete voglia di chiudere con loro? Siamo qua. Di Maio no. Non so di chi stia parlando, grazie. Di Maio chi? È stato sprezzante Calenda con Di Maio. Questa fase di dividersi non sia utile a nessuno. Lui ha definito a me una frattaglia. Non rispondo e vado avanti con un sorriso. C'è bisogno dei verdi, se ne facciano una ragione. Intanto io spero che i tale vive azione si mettono insieme. Il 20 luglio ha chiuso gli spiragli. Chi non ha votato per Draghi non rientra in coalizione col PD. Al Movimento 5 Stelle le accozzaglie elettorali non interessano. Bisogna chiedere al PD che cosa è in comune con Calenda? Noi assolutamente nulla. Calenda che vuole togliere il reddito di cittadinanza è Di Maio che l'ha fatta con Renzi. Anche sul fronte del centrodestra sale la tensione. Meloni avverte i suoi alleati o c'è intesa sulla regola della leadership o è insensato governare insieme. Sarebbe folle dividersi dopodiché saranno gli italiani a votare e il partito che prenderà un voto in più esprimerà il leader. Non si inventeranno una nuova regola per ostacolare l'arrivo di Meloni a Palazzo Chigi? Ma non ci voglio credere. Noi abbiamo sempre accettato le regole scelte tra l'altro da Forza Italia e Lega quando eravamo piccolini. Allora Daniela senta anche posto e Irene Buscemi ce l'ha raccontato bene che le politiche stanno attraversando tutte le coalizioni però a noi interessa con lei ragionare sull'alto là lanciato da Giorgia Meloni. Quindi lei ci conferma in questo momento la coalizione di centrodestra è, diciamo così, subiudice è l'esistenza stessa della coalizione dipende da quello che avverrà domani nell'incontro dei tre leader. Ma guarda, è importante ristabilire le regole. Ci sono state delle regole che noi abbiamo sempre accettato anche quando eravamo un partito naturalmente non con questo consenso come abbiamo oggi sia nelle elezioni amministrative sia in quelli che sono i sondaggi. Per cui se si cambiano le regole in corsa non c'è la motivazione per stare insieme perché noi dobbiamo andare a governare questa nazione come un sol uomo con un programma con delle soluzioni per gli italiani ben dettagliate ben definite e con delle regole che siano quelle di sempre ma chiare all'interno della coalizione. se non c'è questo mastice di correttezza di volontà di coesione che senso ha andare al governo insieme? Non ha senso. Non c'è forse politico più lontano dalla sua visione del governo della cosa pubblica come Clemente Mastella però riconoscerà Clemente Mastella la capacità di leggere la politica oggi in un'intervista sul Corriere dice attenzione Giorgia riferendosi a Giorgia Meloni i tuoi alleati ti vogliono fregare anche lei ha questo sospetto Santanchè? No guardi io non voglio avere questo sospetto perché vede noi governiamo in tantissime regioni in tantissimi comuni e stiamo governando insieme e secondo il giudizio di molti italiani anche bene io non ci voglio credere che degli egoismi delle ambizioni personali distruggono quelli che sono i pilastri di un'alleanza non ci voglio credere e anzi sono certa o meglio sono molto speranzosa che nel vertice che ci sarà si metteranno a posto queste cose però la dobbiamo smettere cioè di farci la guerra tra di noi abbiamo sempre detto mi scusi Berlusconi ha sempre fatto il candidato premier il premier giustamente perché la regola era molto chiara chi prendeva un voto in più non c'era nemmeno da discutere perché oggi queste regole devono essere completamente cambiate o semplicemente anche messe in discussione trovo che stiamo sbagliando che i nostri alleati stiano sbagliando perché in questo momento guardi di difficoltà enorme della nostra nazione noi dovremmo essere tutti concentrati concentrati sul nostro programma di governo quali sono le nostre idee per noi di Fratelli d'Italia rispetto scusi di termino rispetto a Forza Italia e la Lega siamo molto più avanti perché lei sa che noi è da sempre che chiediamo le elezioni da sempre che siamo all'opposizione non abbiamo mai governato né col PD e quindi la nostra identità è chiara forte e netta le faccio notare che forse dovrebbero preoccuparsi prima che lei si collegasse due autorevoli giornalisti che hanno posizioni diciamo editoriali e culturali anche molto distanti come Peter Gomez e Francesco Specchia però condividevano su un punto dicevano guardate che questo attrito che si sta consumando dentro il centro-destra più che su la scelta del candidato premier che peraltro non è prevista dalla legge elettorale è in realtà per la spartizione dei seggi e dei collegi sicuri Sant'Anche Ma guarda questo non è che dobbiamo adesso star qua a fare le vergini e dire che questo tema non c'è il tema c'è perché evidentemente che ogni partito all'interno di un'alleanza vuole come dire portare a casa il più alto numero di collegi però guarda su questo io sono molto meno preoccupata perché Giorgia Meloni che oggi è il leader e la forza traenante con Fratelli d'Italia del centro-destra lei lo sa che quando si è leader e quando si è a capo di una coalizione bisogna saper essere generosi quindi bisogna magari rinunciare a qualcosa per tenere insieme il tutto e so che Giorgia conoscendola molto bene sia politicamente che umanamente questo lo saprà fare perché è una persona responsabile poi quando uno come ripeto è leader deve anche sapere magari rinunciare a qualcosa quindi su questo sono molto meno preoccupata allora Paolo Barelli capo dei deputati di Forza Italia adesso non ho lo sbobbinato preciso di Daniela Santanchè però credo che la parola più ricorrente del suo intervento sia stata la parola leader leadership parola che oggi in un'intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi dice è l'ultimo dei problemi e mentre Santanchè dice dobbiamo correre come un sol uomo verso la vittoria oggi il vice presidente di Forza Italia Tajani sulla stampa dice no noi non vogliamo un uomo o una donna sola al comando mi spieghi qual è la posizione dei Forza Italia alleata sulla carta di Fratelli d'Italia di Lega ma io credo che un uomo solo al comando una donna solo al comando non fa parte certamente nemmeno delle intenzioni di Giorgia Meloni che io conosco da più di 22 anni 23 anni quando cominciò la politica è corretta che ci sia un'ambizione da parte del partito che oggi risulterebbe avere più voti di avere una posizione di leadership ma questo non significa una persona sola al comando sono sicuro che è lontano anche dalle intenzioni e dalla correttezza da un punto di vista anche della gestione del progetto che deve portare il centrodestra al governo io veramente credo come dice il presidente Berlusconi che il problema della leadership del centrodestra sia l'ultimo dei problemi nel senso che i leader si incontreranno già domani e nei prossimi giorni questo aspetto dovrà essere affrontato in una maniera molto corretta e molto semplice però Barelli la posizione di Sant'Anche e di tutto Fratelli d'Italia è molto chiara se è l'ultimo dei problemi quello della leadership e della premiership allora perché abbiamo tutta questa premura nel cambiare le regole che valgono dalla notte dei tempi del centrodestra da quando nel 93 Silvio Berlusconi decise di scendere in campo quando dico l'ultimo dei problemi non dico non c'è nessuna prevenzione da parte di Forza Italia nei confronti di Giorgia Meloni lo sa perché gli è stata anche detta anche questo personalmente io credo che oggi il tema è incontrarsi per stabilire il programma e stabilire come vincere la campagna elettorale siamo ovviamente sotto attacco chiaramente c'è chi strumentalizza tutto sotto attacco di cosa Barella ma no attacco nel fatto che c'è una narrazione che sicuramente non è accettabile anche per quanto concerne Giorgia Meloni e Fradell'Italia quindi la narrazione che sia una forza che non possa esprimere una leadership è una narrazione completamente scorretta e strumentale sono diciamo argomenti che sono stati già oggetto di polemiche nel recente passato io credo è termino scusate è termino io credo che nei prossimi giorni i leader del centro-destra si incontreranno stabiliranno esattamente come procedere nelle prossime settimane della campagna elettorale e definire un programma comune che integri le diverse diciamo posizioni ma conciliabili in quanto il centro-destra le posizioni che sono conciliabili lo ha già dimostrato nelle elezioni alle regioni ai comuni con qualche eccezione perché adesso mi dirà questo ma come è ovvio che ci possa essere quindi non c'è nessuna prevenzione da parte di Forza Italia nei confronti di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia ci si siederà al tavolino e si stabiliranno nell'interesse comune questo perché sono convinto che tutti i partiti del centro-destra vogliono vincere le elezioni e non vogliono fare il casino allora prima di arrivare da lei Tommaso Cerno e le do del lei in quanto ancora senatore del Partito Democratico ma vorrò anche chiedere il tuo parere in quanto giornalista e quindi ti do del tu in quanto collega passo da Cristina Pantaleoni che sta seguendo per noi la direzione del Partito Democratico perché Cerno io voglio capire che cosa sta succedendo al di là dentro il centro-destra in queste coalizioni che per quanto molto vogliose almeno alcune di andare al voto però si trovano alle prese con tutta una serie di beghe prima però andiamo sull'altro campo Partito Democratico Cristina Pantaleoni Sì Francesco buongiorno di fatto oggi il segretario del PD Enrico Letta ha aperto anche lui all'interno del centro-sinistra questa battaglia sulla premiership perché Letta all'inizio del suo discorso non usando mezzi termini proprio un discorso da inizio di campagna elettorale toccando vari temi attaccato anche a quelli della premiership dicendo io sono pronto a fare il frontrunner del Partito Democratico per questa corsa alle elezioni abbiamo una clip e possiamo sentirlo non c'è pareggio ma non soltanto non c'è pareggio o vince l'Europa l'Europa comunitaria oppure vince l'Europa dei nazionalismi ed è per questo che gli italiani devono avere assolutamente chiaro che la scelta è tra noi e Meloni Allora Cristina è interessante dice si è ritornati allo schema bipolare che proprio questa legislatura sembrava aver messo in soffitta e poi che altro ha detto Letta? Tanto per cominciare ha ribadito il nono nuova alleanza con i 5 Stelle ha detto gli elettori sono stati chiari in questo giudizio ma soprattutto riferendosi alla campagna elettorale la prima volta che si terrà in estate ha detto ci hanno detto senza mai di termine la prima volta che sentiamo un letta così duro in questi confronti non andremo a rompere i coglioni sotto l'ombrellone e anche questo possiamo sentirlo in una clip Allora proviamo a sentirlo Noi saremo in grado di avere 100.000 persone che sono effettivamente con la voglia la passione di andare casa per casa strada per strada incontrare le persone soprattutto nelle periferie di questo agosto nel quale subito ho visto che nel dibattito pubblico andrete mica negli ombrelloni a rompere i coglioni alla gente noi partiamo dall'idea che c'è metà Italia che negli ombrelloni non c'è perché nelle case e perché non ci sono le condizioni Allora Tommaso Cerno dopo gli occhi di Tigre Letta almeno con il torpiloquio sta tirando fuori anche gli artigli della Tigre ma al di là di questo come legge questo sfarinamento delle coalizioni una che è ancora tutta da costruire un'altra che quella di centrodestra non avrebbe bisogno di nessuna rettifica se non fosse che si vogliono cambiare in corsa le regole Ma guarda intanto do un giudizio molto libero perché ho detto mesi fa Letta che non avrei non sarei stato in fila e di corsa a chiedere un posto quindi puoi tranquillamente tornare a darmi del tu Quello che vedo Tommaso questo è perché non ti riconosci gli occhi di Tigre quando ti guardi allo specchio? Ma perché no perché passare dai giaguari alle tigri è una cosa che lascio fare a loro sono entrambi animali in via di estinzione che io rispetto per altre ragioni il tema vero è questo io la vedo molto più semplice l'Italia è in un momento di gigantesco cambiamento il centrodestra sta vivendo una cosa molto naturale il passaggio politico alla leadership di Giorgia Meloni può piacere o no lo decideranno gli italiani ma la politica quella vera non quella delle poltrone non quella dei ragionamenti quella che spinge da secoli le società dice che la destra dopo Berlusconi e dopo il fallimento di Salvini in questa legislatura ha un leader si chiama Giorgia Meloni sarà lei a dimostrarci se è capace di farlo non saranno i giornali americani che non hanno mai capito nulla dell'Italia a spiegarci se vincerà quindi è chiaro che questo passaggio è storico che da un leader degli anni nato alla fine degli anni settanta non si torna indietro è chiaro che c'è nella destra questa sensazione che tutto può cambiare ma è questo il bello e questo succederà quindi do un consiglio a Letta Letta non può candidarsi alleato con gente che non vuole lui come leader e Letta deve andare da solo Letta deve avere il coraggio anche di fronte all'ipotesi di una sconfitta con l'augurio che in quel caso il PD in questa volta stia all'opposizione non vada al governo con un sotterfugio come ha fatto negli ultimi anni abbia il coraggio di sfidare la nuova destra con una nuova sinistra lasciando perdere questa illusione ottica del centro che viene sempre alla fine di ogni sistema come il miraggio alla fine della traversata nel deserto che ti dà l'impressione di avere trovato l'acqua non esiste questo esistono due modelli d'Italia che si andranno a scontrare con una legge elettorale che è la peggiore possibile che ha ragione Gomez porta le impronte digitali di tutti ma in particolare in particolare di Ettore Rosato quindi di un PD diventato Renziano che all'epoca voleva con la legge elettorale sconfiggere i 5 Stelle e non si è riuscito quindi auguro al PD di non credere anche stavolta che la legge elettorale vale più del voto gli italiani la smantelleranno se vorranno dare un messaggio diverso non hanno bisogno di queste regole quindi io mi auguro che il disco rotto della sinistra il disco delle grandi occasioni le vecchie inchieste le tirate fuori dai cassetti come facevano con Berlusconi che volevano batterlo perché aveva le televisioni e il conflitto di interessi e non ci sono mai riusciti non si traspongano anche contro la Meloni con questa idiozia del fascismo ma che la sinistra faccia capire che cos'è e che cosa vuole e che la sfidi e cerchi una volta casomai di vincere nelle urne e di governare legittimamente questo è il mio consiglio altrimenti fatevi 5 anni di opposizione che vi fa bene allora Tommaso Cerno sei stato molto transciane nei riguardi dei colleghi d'oltreoceano noi non ci discostiamo da questa tua valutazione non fosse altro per il rispetto che si deve ad un ospite David Broder è con noi è un piacere averlo qui perché è la prima volta che parla in Italia chi è David Broder? David Broder è un storico esperto di fascismi della storia quindi in Italia e in Francia scrive per una rivista radicale americana Jacobin ma un suo intervento è stato ospitato sul New York Times e ha scatenato una ridda di polemiche molto importanti perché a proposito della possibilità che Giorgia Meloni diventi premier ha evocato senza mezzi termini il rischio di un ritorno al passato il ritorno al passato che è quello del fascismo Broder benvenuto all'aria che ti restate io riparto da un ritratto che la nostra Maria Laura Cruciani ha fatto da quella che è sicuramente la vera novità del quadro politico nazionale Giorgia Meloni e poi dialoghiamo con lei e i suoi ospiti io sono pronta Fratelli Italia è pronta mi pare che il centrodestra oggi sia abbastanza pronto e quindi il metto in testa viva l'Italia Giorgia Meloni c'è oggi il suo partito è quello che più degli altri registra una crescita di consensi guardate cosa mi hanno lanciato l'orgoglio nazionale rivendicato come le altre tre bandiere che sventolano dal palco di San Giovanni io sono Giorgia sono una donna sono una madre sono italiana sono cristiana non me lo toglierete un tormentone ma anche un programma politico la strada per la leadership parte da lontano a 15 anni fonda un coordinamento studentesco viene eletta consigliere provinciale con l'alleanza nazionale di Gianfranco Fini nel 2006 viene eletta alla Camera dei Deputati a 31 anni è con Berlusconi ministro della gioventù giuro di essere fedele alla Repubblica di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione poi il grande salto in politica Giorgia cammina da sola fonda Fratelli d'Italia partito conservatore e sovranista viene eletta alla Camera e si candida al sindaco di Roma nella mia condizione evito di gridare come un'aquila alle ultime politiche viene rieletta alla Camera sceglie unica nella coalizione di centrodestra di restare all'opposizione anche nel governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati la coerenza paga nei sondaggi Fratelli d'Italia vede capitalizzata questa scelta però l'accusa con cui Giorgia e i suoi devono fare i conti oggi come ieri è di essere neofascisti la maglietta scura che porta è un omaggio alle camicie nere pesa l'amicizia con Orban e la simpatia con Vox no la immigrazione massiva si è trovato il nostro suono critiche rinvigorite dalla campagna elettorale appena iniziata i toni sono destinati a salire come reagirà il partito dei patrioti questa nazione che ha bisogno finalmente di un governo dei patrioti David Broder eccolo l'editoriale in prima pagina sul New York Times il futuro è l'Italia ma è desolante qualcuno lo tradurrebbe squallido perché questo giudizio? Salve grazie dell'invito infatti dico che l'Italia è il futuro nel senso che abbiamo visto in Italia un processo che poi si espande anche ad altri paesi in cui c'è questa distruzione delle barriere che potevano esistere tra il centro-destra e l'estrema destra anche di background di passato fascista non è che non è che dico che la Meloni voglia instaurare un nuovo regime fascista in Italia ma tipo ho visto nella sua risposta al mio articolo pubblicato sulla stampa si è difesa in questo modo dicendo ma non è che voglio la dittatura ma mi sembra il minimo questo non è il problema il problema è che Fratelli d'Italia ma anche i suoi aliati nel cosiddetto centro-destra hanno sloganato militanti neofascisti anche Fratelli d'Italia non è solo un problema del passato o di aliati ma anche Meloni stessa ha adottato a più riprese il discorso di un presunto disegno per sostituire la popolazione europea con un'altra africana anche le risposte al mio articolo da parte di Ignazio la russa erano di matrice complottista dicendo che fosse qualche tipo di connubio tra think tank italiani e la sinistra americana quindi tutto per questo che infatti non vogliono la dittatura ma comunque è un momento molto pericoloso nella politica italiana e vediamo anche come ho detto nell'articolo è anche all'avanguardia di un processo che vediamo in altri paesi Allora brother visto che noi amiamo il confronto libero e civile tra opinioni diverse io ho voluto e gliene sono grata che Daniela Santanchè fosse qui oggi presente perché così può replicare le osservazioni molto puntuali dello storico che ieri ha firmato l'altro ieri ha firmato quell'articolo che sta facendo un discutere non solo l'opinione pubblica italiana e tra poco con Gomez e specchia ci arriviamo prima però lei Santanchè direi un brother la qualunque pieno di risentimento pieno di ideologia pieno di luoghi comuni uno storico e farebbe molto bene come storico occuparsi del fascismo che deve essere consegnato alla storia e dovrebbe essere giudicato dalla storia e dagli storici non fa parte delle categorie del nostro secolo perché non si può più parlare di fascismo non ne vedo assolutamente nessuna motivazione per la quale se non cercare di dare un aiuto ma non si aiutano gli amici di sinistra parlando della melone di fratelli d'Italia come neofascisti si fa il gioco di sempre continuate a farlo io sono assolutamente per la libertà di pensiero di opinioni e ci state dando una grande mano perché ormai gli italiani sono assolutamente vaccinati da questo punto di vista e sanno che questo è un tema che guardate non è un'opinione quella che sto dicendo ma è conclamata dai fatti si tira fuori soltanto in campagna elettorale dal 26 di settembre vi do già una notizia non si parlerà più di fascismo per cui io non sono neanche disposta a discuterne più di tanto perché non c'è la discussione c'è soltanto un approccio come dire contro cercando di dare una mano di persone che non sono libere come non è libero lui e che quindi vuole dare una mano alla sinistra cercando di buttare del fango e parlando di categorie che non esistono più e che non ci sono più e io devo dire che siccome abbiamo fatto molti esami tantissimi esami del sangue non ho neanche voglia di replicare a un Davide la qualunque perché adesso però il rispetto per gli interlocutori credo che dovrebbe insomma far parte del nostro confronto mi sembra di averlo dimostrato il rispetto sono qua ma voglio dire il rispetto per che cosa io non lo chiamerò David la qualunque ma lo chiamerò David Broder però Sant'Anche andiamo sulle questioni dice sta utilizzando da storico delle categorie che vanno bene per la storia ma non vanno bene per la lettura del presente lei sta facendo un'analisi che è funzionale alla propaganda della sinistra Broder ma infatti come ho come ho detto non è non è solo un problema di nostalgia o del passato o di chi ha un busto di Mussolini ma del discorso che promuove il partito Fratelli d'Italia adesso anche quando la Meloni parla del del disegno di sostituire la popolazione europea con un'altra africana non so il disegno di chi ma Sant'Anche ha appena detto che il fascismo non sia una categoria che appartenga a questo secolo il mio libro si chiama Mussolini's Grandchildren i nipoti di Mussolini e quindi ho ricercato un po' le polemiche che hanno potuto coinvolgere appunto i nipoti di Mussolini e quindi mi ricordo di un dibattito del 2008 quando la Sant'Anche si candidava premier per l'allianza del suo partitino con Storace e anche con Fiamma Tricolore durante la campagna elettorale c'era questa polemica molto accesa tra la Sant'Anche e la Mussolini e cito testualmente un articolo su questo pubblicato dal Corriere che la Sant'Anche ha detto che il suo nonno di Alessandro Mussolini Benito si rivolti nella tomba a vederla fare la valetta di chi Gianfranco Fini ha definito il fascismo il male assoluto ok in un altro discorso della stessa campagna Sant'Anche ha difeso le politiche sociali del regime fascista quindi non penso che si può dire che questo discorso appartenga solo al passato perché c'è anche chi è interessato a negare che può esistere e infatti proprio il tema del mio articolo è il modo in cui i centrodestra europei possono accettare anche persone che hanno un passato anche molto recente anche in questo secolo certo di fascisti allora Sant'Anche vedo che è tra secola io le chiedo un momento di pazienza perché voglio coinvolgere gli altri miei ospiti a partire da i due giornalisti Peter Gomez richiamare il rischio del fascismo è un tema di propaganda elettorale di cui ci si dimentica dopo il voto come dice Sant'Anche o c'è un problema di spostamento del baricentro così tanto a destra che la stampa internazionale rileva delle criticità aggiungo che al di là dei toni molto duri di Broder tanti altri editorialisti Washington Post Krugman oggi sul New York Times dicono il problema non è tanto le radici del fascismo quanto delle politiche anti-europee di cui potrebbe farsi portatrice Fratelli d'Italia Allora Daniela Sant'Anche ha perfettamente ragione questa storia della polemica sul fascismo la vediamo prima di ogni campagna elettorale e finirà probabilmente il giorno dopo questo bisogna essere obiettivi e bisogna dirlo secondo me con altra obiettività altrettanto obiettività bisogna dire che personaggi non fascisti fanno parte dell'album di famiglia di Fratelli d'Italia perché Fratelli d'Italia non arriva dal niente sono preponderanti all'interno di Fratelli d'Italia da questo punto di vista non credo credo che ci siano ma non credo che siano in grado di influenzare in maniera particolare la politica di Fratelli d'Italia credo invece che il problema che viene posto all'estero e tu oggi citavi gli articoli di oggi è una questione che riguarda in parte Giorgia Meloni ma molto di più i suoi alleati di governo insomma la questione che viene posta dalla stampa internazionale che è orgogliosamente schierata contro Putin è un'altra Fratelli d'Italia dopo un innamoramento passeggero diciamo ve lo ricordate il numero il libro di Giorgia Meloni in cui Putin veniva anche elogiato ha preso una posizione filoatlantica molto chiara per le armi eccetera dall'altra parte i suoi due alleati che andassero al governo sono sospettati sospettati senza prove però dobbiamo dire che il sospetto c'è di aver preso dei soldi o aver tentato di aver preso dei soldi o fare affari con Putin e questo li renderebbe ricattabili ma questo problema rispetto a Fratelli d'Italia francamente mi pare che sia abbastanza superato poi è ovvio Fratelli d'Italia propugna un programma di destra è dichiaratamente di destra io mi chiedo come si concilierà per esempio quello che secondo me sta diventando il comune sentire degli italiani anche di destra rispetto a una serie di diritti civili ma questo può darsi che Fratelli d'Italia cambierà e potrebbe allora perché magari succederà che si comincerà a capire che i diritti civili non sono qualcosa che non sono di destra e di sinistra ma sono qualcosa che devono riguardare gli esseri umani sono questioni interessanti vi chiedo a Barelli a Specchia e a Cerno un momento di pazienza andiamo in pubblicità ripartiamo da qui e poi evidentemente ritorno anche da Daniela Santacchè e da David Broder a tra poco e a Cerno a Cerno a Cerno e a Cerno Grazie a tutti